uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi finalmente con l'arrivo della settimana numero 7 è arrivata anche la skin sorana è stato abbastanza complicato capire come si potessero ottenere i due stili personalizzati ma poi ci siamo resi conto che bastava semplicemente buttarsi in un cassonetto nelle fattorie e in un pagliaio per poterli ottenere in pochi secondi spero davvero che tutti voi ce l'abbiate fatta a completare le sfide e ovviamente a portare nel vostro armadietto questa nuova skin leggendaria che happy games ci ha regalato nel video di oggi però parleremo dell'uragano in arrivo su fortnite si ragazzi un qualcosa di incredibile che c'era sfuggito e che potrebbe seriamente far parte della storyline di questa season 1 lunghissima vi ricordo ancora terminerà il 6 febbraio ma parleremo anche della copertura autunnale che ieri pomeriggio intorno alle 18 abbiamo scoperto sia possibile sbloccare solo con le sfide globali ne parleremo un attimino e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie di cuore a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima comunque la domandina ve la devo fare ogni giorno mi rispondete in tantissimi qua sotto nei commenti domanda di oggi molto personale ma molto curiosa ma te qual è la tua modalità tempo limitata in assoluto preferita piano piano stanno tornando le ltm ne ho alcune che ho visto hanno aggiornato e che arriveranno in questi giorni piano piano fino a dicembre gennaio la tua preferita qual è la mia personalmente rimane tuttora le 50 versus 50 bellissima giocare questa competizione in due grossi team magari alcuni di voi non le hanno non hanno mai provata era veramente tanta tanta roba ditemi qual è la vostra qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare del primo argomento di oggi che non poteva che essere la copertura autunnale che abbiamo scoperto finalmente essere disponibile per tutti ma ad una condizione innanzitutto esce ieri la regina d'autunno che fa parte di un set dedicato bellissima come skin molto particolari e interessanti i due picconi ma avevamo già visto un bel po di tempo fa che c'era questa copertura che tra l'altro è animata quindi sono proprie foglie d'acero che cadono questa è l'animazione ma per ottenerla dobbiamo tutti noi e intendo proprio tutti i giocatori del mondo mettere insieme le forze e arrivare al totale di 2 miliardi e mezzo di punti entro il 2 dicembre come si ottengono i punti ovviamente ci sono i punti in game che vengono aggiunti al rianima un compagno due punti cura i tuoi alleati con il bazooka per le sparabende un punto per ogni punto salute guadagnate gioca le partite con un amico sono cinque punti se andato nella se andate nella sezione notizie di fortnite vi fa vedere proprio questa notizia dedicata e in basso c'è il link ad una pagina web che invece vi mostra il contatore in tempo reale dei punti quindi mi raccomando giocate in questi giorni soprattutto con i vostri amici giocate magari a risa squadre e vedrete e speriamo che riusciremo ad arrivare ai 2 miliardi e mezzo di punti e quindi tutti otterremo la copertura autunnale e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi questa è una delle schermate di caricamento delle copertine che si vede spesso e volentieri in giro quando gli youtuber o comunque più o meno grandi vogliono promuovere uno dei software più utilizzati fino a poco tempo fa di fortnite che si chiama skin swapper praticamente che cosa ti fa fare skin swapper in poche parole tu puoi cambiare a tuo piacimento la skin che stai utilizzando ad esempio ti metti la renegade raider ti metti l'aerial assault ti metti una delle skin oggi è in lobby la fai vedere ai tuoi amici ovviamente la puoi anche utilizzare per giocare in game ma solo tu la vedi mentre gli altri vedono la skin normale perché vi parlo di questo perché se lo state usando smettete subito di usarlo in quanto stanno cominciando ad arrivare i ban per un 1 bar due giorni quindi niente di esagerato in realtà però scoccia avere per 48 ore il profilo bloccato per tutti gli utilizzatori del software skin swapper quindi mi raccomando ragazzi smettete di usarlo non serve più vi do un altro consiglio se utilizzate le mod su gta occhio che a volte vengono riconosciute come hacking e quindi rischiate di avere l'account bannato e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi una piccola notizia sull'arpione la fiocina in realtà in realtà non è che è una notizia è una roba che magari non tutti si sono resi conto succeda voglio farvi vedere un come si dice un filmato lo sapete ragazzi che voi potete prendere ovviamente con l'arpione gli oggetti ma se non ve ne siete ancora resi conto ogni volta che utilizzate l'arpione per prendere un vostro oggetto guardate non viene utilizzata nessuna carica questo è un modo molto molto comodo per portarsi appresso i vostri oggetti più utili in quel momento mi viene in mente se state magari in una safe che si sta chiudendo è una cosa che magari molti sanno io sinceramente non ci avevo mai fatto caso curioso e quindi ho voluto dirla anche a voi quindi se vi portate gli oggetti vostri non sprecate nessuna carica della fiocina tanta tanta roba è sicuramente molto utile ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e si parla ancora di lui la gente del caos che piano piano continua ad insidiarsi in tutte le community dedicate a fortnite perché pare essere parte integrante della storyline di questa season vi avevo già fatto vedere che nella schermata di caricamento alle mie spalle ci sono tantissimi punti che vanno ad indicare appunto dei momenti salienti di questa season ad esempio con la freccia blu vediamo la porta di ferro sotto la montagna con la freccia verde andiamo a essere richiamati sugli alter ego le frecce arancioni invece indicavano il piccone e il dorso decorativo della skin sorana ma c'è un monitor che mi era sfuggito ragazzi ed è proprio quello principale guardate che la gente del caos sta guardando un monitor che ha un uragano proiettato potrebbe per caso voler dire evento cataclisma che modificherà qualche cosa forse la porta di ferro è legata all'uragano mi potrebbe venire in mente che è enorme la porta di ferro se c'è un uragano la gente si rifugia non lo so ragazzi questa roba qua pensateci perché è molto molto curiosa e anche per oggi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 su twitch ciao 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 ciao